Ci sarà prima un brano che abbiamo provato nelle prove, ma che dobbiamo eseguire in concetto. Sarà un brano intitolato Sei strappi d'animo, è un brano elettroacustico di Nicola Tionisi con elettroacustiche percussioni, abbinato anche a un video di Nicola Meola e Francesco Paolo Ceramella. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.